Eccoci qua, sua Makin Life Ecco qua la mia skin Ok, 50 coins Bella la mia skin, quanto è bella Ce l'ho solo a 4 giorni, è vero la ruota Io sono una persona da 150 euro Ok, questo qua è un insulto per me È un strano insulto Vabbè, vediamo se i miei amici ci stanno Sì Elena, Elania Partecipa Chiamo la mia amica Dai, Elania, Elania Dov'è Elania, Elania, Elania Ok Voglio Elania, la mia amica Dai, devo dire che sto registrando Ecco Ok, aspetta Sto Registrando Do A Amica Ti Ricordi Di Di Me Ok Se si ricorda di me, Elania Ok Ok Aspetta Ciaio Mi sei mancata Mi sei mancata? È passato Tanto Tempo Cosa? Cosa? Come? Di? Cosa? Chiami Su Io Io Viola Non Non Ti Ricordi? Cosa? YouTube Cosa? YouTube Comunque la voce così chiara perché Non lo so Comunque non sembrano a 14 anni Cioè a 14 anni la voce è così Ok allora Allora il nome del canale è staccato tantissimo Pier Paolo Magliere italiana Ok E Stop Registrando Capito? E' l'ania Lo Caricco Fra Fra 20 Minuti Minuti Ok 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 L'ania Fra 20 minuti Che tipo di gioco? Ora Ora Sì Ora Qua Ok Credo 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 che i miei fan ti apprezzeranno Vabbè No funziona questo Ok Ok mmmm Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è un'altra davvero da merda. Da merda. M-E-R-D-A. C'è un'altra davvero da merda. C'è un'altra davvero da merda. Ok. C'è un'altra davvero da merda. Cosa ha detto? 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 faccio vedere metà della mia faccia ok lo so vabbè comunque è bello questo balletto ok è come già da 15 minuti quasi finito di registrare scusate che giù metto una vita ok ok eh? da 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 ciao da 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 R si sa però adjusted a fare Tutti insieme ballo da 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 si? va bene? si Faccio viola Ilania Allora Scrivi Pica Ciao Sara Poi Il Video Con Pica Ciù E Cu E Cu E E E Cu E Cu Encima Pico Pallina E Sì A Sì ok da 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 Ok, aspettiamo che Elania trova il mio canale, però è un po' dissociante a sto bello, guardate quelle un poco vestite quando fanno la parte del sedere, vabbè, ok, Elania? Aspetta, cerchi Elania, non cerca Elania, ciao Gesù, Madonna è uno, che cazzo dici? Segnato Tu mano Ehm, facciamo sedici, una bugia Zio Carota, ma che cazzo dice Pinko Pallino? Ops, ho spento il telefono, che cazzo ho fatto? Ok Ok Allora, ti sei iscritta Evviva, adesso ho due amici Ok Però mi sto annoiando Grazie Grazie Aspetta Ora Ora Pubblico Dieci Minuti E Torno Ok Ok, comunque spero che il video vi sia piaciuto Ehm, secondo me piace un po' più alle persone che, tipo, parlano tanto E quindi, ciao da Elania Quarri e Pierpaolo Adesso